Ehi, guarda quanta strada hai fatto! Hai un vero spirito d'avventura! Beh, allora ti svelerò un segreto! Da qualche parte, in questo tempio, c'è un mini tempio in cui possono entrare solo le persone minuscole. Pare che al massimo possa entrare un essere grande quanto un topo. Ehi, guarda quanta strada hai fatto! No, non è un problema! No, non è un problema! Bene, non è un problema! Ehi, guarda quanta strada hai fatto! Ehi, guarda quanta strada hai fatto! Grazie a tutti. 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 a tutti.